andrea tessitore sono impiegato del circolo piladena nonché arbitro zonale della serpese fantastica giornata un sacco di partecipanti la gara procede regolarmente concluderemo un quarto se Dio vuole no tutto bene devo dire un ottimo sponsor un ottimo campo degno del mondo che porta il mio gioco lascia molto desiderato la gara è stupenda gli sponsor molto di più giornata fantastica un po' di umidità temperatura ideale campo meraviglioso d'altronde è noto il campo è fantastico peccato per i green di qualità mediocre buona la compagnia si può volere da una giornata di giugno sì è una giornata un po' affosa ma però il campo è magnifico e dunque c'è una competizione credo che si svolge nelle miglior condizioni non serviva la giacchetta impermeabile ma comunque servirà in qualche altro momento dell'anno grazie grazie